La fiera di San Michele si svolgerà all'ex foro Boario insieme alle giostre, si arriva dunque ad una genificazione dei siti rispetto a Pian del Lago, che era stato il luogo indicato inizialmente per le bancarelle. Una decisione frutto di un lavoro congiunto tra comune e associazioni di categoria, a seguito di opportune verifiche e sopralluoghi, è chiesto anche il parere della Commissione Pubblici Spettacoli, ci fanno sapere dall'amministrazione. Sarebbero stati infatti gli stessi operatori ad avanzare la richiesta in tal senso, così come ci ha raccontato anche uno dei sindacalisti, accogliendo positivamente la disponibilità mostrata da parte dell'amministrazione. Adesso dunque i circa 18.000 metri quadrati dell'area saranno a disposizione degli operatori sia per le giostre che per le bancarelle. Nel bando si prevedevano per la fiera 132 posti suddivisi tra le varie aree, cioè due per le aziende dedicate ai servizi istituzionali, dieci per la produzione filiera corta alimentare a chilometro zero, due aree a ecoenergie rinnovabili, tre all'artigianato, uno per la promozione sport e tempo libero, due no profit, sette obbisti, venti per l'area food e il resto per l'area libera commerciale. Secondo le gradatorie provvisorie pubblicate all'albopretorio del comune sarebbero circa un centinaio le richieste presentate. In questi giorni è stata pubblicata anche l'ordinanza della direzione quinta Polizia Municipale CED Affari Legali e Contratti che disciplina per quel periodo il traffico veicolare nelle strade interessate. Ed in particolare dalle ore 15 del 25 settembre alle ore 7 del 3 ottobre 2022 viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati in via Gibilgabib, tratto di strada compreso tra la via Verna e l'intersezione con Contrada Santa Lucia, nella stradella di accesso al foro Boario, tratto compreso tra la via Gibilgabib e l'ingresso principale del foro Boario, divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sinistro in via Gibilgabib, tratto compreso tra l'intersezione di Contrada Santa Lucia fino al palo luce contrassegnato con numero 6305 e comunque fino all'intersezione con la Contrada Caldera Rovalle e ancora nella strada di collegamento tra la via Gibilgabib e la via dell'imprenditore, divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati in via dell'imprenditore, tratto di strada compreso tra il Civico 53 e la via Libero Grassi, nonché nella strada parallela alla via dell'imprenditore nel tratto indicato da apposita segnaletica verticale mobile, senso unico di marcia in via Gibilgabib tra l'intersezione di Contrada Santa Lucia e la strada di collegamento tra la via Gibilgabib e la via dell'imprenditore, nella stessa strada e in via Libero Grassi da via Peppino Impastato a via dell'imprenditore, in via dell'imprenditore tratto di strada compreso tra la strada di collegamento tra la via Gibilgabib e la via Gibilgabib e la via Peppino Impastato, sospesa la circolazione veicolare tranne per gli operatori commerciali in via dell'imprenditore, tratto di strada compreso tra il Civico 53 e la strada di collegamento tra la via Gibilgabib e la via dell'imprenditore, nella stradella di accesso al foro Boario, tratto compreso tra la via Gibilgabib e l'ingresso principale del foro Boario. Infine vengono istituiti sei stalli di sosta riservati a persone con disabilità nello slargo compreso tra via Gibilgabib e la strada di ingresso principale al foro Boario. La fiera durerà circa una settimana dal 26 settembre al 2 ottobre.